E oggi come oggi, Geni Violati, di Lucio Consiglio, un libro che vi consiglio, perché è pieno di significate, a cominciare dalla copertina per finire con la trama, con la trama e soprattutto con la descrizione finale. È un libro in tris di significato, l'ho capito persino io, Tonino, da Montenegro.